Seconda trasferta consecutiva per i Neroazzurri che alla vigilia della sesta giornata si trovano con due soli punti in classifica. All'inizio Inzaghi, fermato da Ferron, illude l'Atalanta che già all'undicesimo va sotto di un gol per merito di Jacopino e al ventesimo subisce il raddoppio di Ferron. Fortunato al suo rientro in squadra deve abbandonare nuovamente per infortunio e la stessa cosa succede a Gallo, sostituito da Rustico. La Sampdoria domina la partita, sbaglia parecchi gol che sembrano fatti, nel finale rischia su punizione di Herrera che colpisce la traversa, ma subito dopo sfiora la terza rete con Salsano, il cui tiro è respinto dal palo.